Eccoci qua, buon lunedì, buona settimana, buona giornata, buon ottobre, buon mese, cioè stiamo lanciati veramente a novembre. Non so se a te capita lo stesso, ma i mesi tra agosto e dicembre volano. Poi da gennaio c'è il blocco cosmico, ma questi mesi sono proprio un attimo. E a proposito di un attimo, a proposito di leggerezza, ecco che la carta della settimana è il 3D Coppe. E il 3D Coppe ci invita alla connessione, alla connessione con parenti, con amici, con persone che riteniamo così intime da pensarle alla stregua di familiari. Se c'è qualcuno che hai lasciato indietro nel tempo, forse trascurando un pochettino il vostro rapporto, allora questo 3D Coppe ti invita a portare una nuova primavera in quella relazione. Relazione non è sinonimo necessariamente di amore, non si sta parlando di un ritorno d'amore, anzi probabilmente il numero 3 è più collegato alle novità, a qualcosa che ci stimola, a uno scoppio emotivo che non sappiamo bene dove andrà a finire, però intanto inizia, però intanto ci porta da qualche parte. Per tutte le persone che invece lasciano di lato il discorso emotivo, il discorso relazionale, che sia con un amico, con un parente o con un intimo, allora possiamo pensare che è necessario collegarsi a qualcuno a livello di progetti o a livello lavorativo se e solo se quel progetto ci ispira, ci stimola. Allora in quel caso va bene sconsigliare invece tutte quelle dinamiche, da sconsigliare e sconsigliate, tutte quelle dinamiche invece di progetti dove si prevede uno sforzo intellettuale, uno sforzo fisico. Ecco, è bellissima questa carta se la mettiamo nell'ottica di energie pulite, di primavera, di novità adolescenziali. A proposito, se tutto questo entra in risonanza con te, la domanda campione per questa settimana è rullo di tamburi, quali nuove collaborazioni stanno emergendo per me? Collaborazioni creative, emotive, che ci ispirano, stanno emergendo per me. Domani metto il video del tiraggio della settimana. Buon lunedì, buona partenza di settimana.